oggi eh sarà Enzo Scandurra con noi eh di introdurre invece la lezione di oggi che ha da Piero eh di presentare un po' Scandurra e poi il tema della lezione di oggi. Piero a te la parola. Grazie Roberto buonasera a tutte e a tutti. Allora Enzo Scandurra questa sera ci intratterrà sul tema modernità scienza ecologia. Ricordo eh che eh Scandurra è un ingegnere eh è stato ordinario eh presso eh la facoltà di ingegneria della Sapienza dell'Università della Sapienza di Roma ordinario di urbanistica. È stato direttore del dipartimento di architettura e urbanistica di quella facoltà e coordinatore nazionale del dottorato di ricerca in urbanistica. Allora Enzo Scandurra è un uno studioso non è semplicemente un ingegno un ingegnere uno studioso diciamo dotato di molteplici interessi. Ha studiato eh naturalmente soprattutto la realtà e la storia eh delle nostre città di Roma in particolare ma si occupa anche di ecologia. Questa sera lo sentiremo parlare eh di questo tema e di sapere scientifico. Collabora sistematicamente al manifesto da decenni quindi svolge un impegno politico e civile assiduo e scrive anche romanzi e quindi diciamo è una figura una figura eh abbastanza complessa. Ricordo eh dei suoi lavori molto brevemente eh innanzitutto le 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 opere di urbanistica diciamo come un paese ci vuole del 2007. Ricominciamo dalle periferie pubblicata nel 2009. Recinti urbani del 2014. Con Ilaria Agostini ha pubblicato Miserie e splendori dell'urbanistica. Un bellissimo libro che ho avuto il piacere di di prefare. E poi ci sono le prove narrative. Vi ricordo vite periferiche del duemila e dodici che è un ritratto desolato eh delle esistenze marginali nella città di Roma. Poi fuori squadra. Infine Exit in Roma un romanzo del duemila e diciannove pubblicato da eh Casteldeschi che è un romanzo distopico. Ci ci rappresenta una Roma dopo una oscura catastrofe eh dove gli uomini e gli abitanti si muovono come zompi in un deserto di di rovine. Ricordo eh brevemente anche un po' di di opere scientifiche. Biosfera, l'ambiente che abitiamo del 2020, la svolta ecologica. l'ultimo l'ultima occasione per il pianeta e per noi pubblicata da Deriva Prodi. Infine ricordo brevemente io vedo mancare una che eh Enzo Scandura è una una colonna dell'officina, il sito che insieme a lui eh a Ignazio Masulli a tanti altri a Laura Marchetti eh Franco Novelli non posso nominarli tutti ehm diciamo da 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 sette otto anni e cerca di praticare una cultura eh interdisciplinare. Infine aggiungo e non so se questo diciamo accresce il profilo eh di Enzo. Enzo eh è da decenni un mio compagno di lotte per cambiare eh il volto disfatto di Roma eh per fare qualche cosa eh per questo paese eh malandato che è l'Italia del del nostro tempo. Quindi io mh la chiuderei qui per il momento poi ricorderò alla fine alla fine della lezione del dibattito. la parola a Enzo. Allora ehm beh innanzitutto il titolo è un po' ambizioso l'avrete capito scienza ecologia eh modernità quindi forse c'è stato un un disguido quando abbiamo eh definito questo titolo eh io non ovviamente non non ho nessuna non ho la pretesa di occuparmi eh di tutto questi di questi di tutti questi concetti anche se mh affrontando e poi i problemi eh le questioni che adesso dirò eh probabilmente toccherò eh direttamente o indirettamente uno di questi aspetti. Allora io l'obiettivo di questa lezione è quello di ehm eh come dire descrivere eh il passaggio ehm dal paradigma lujoniano della meccanica classica e cioè la visione del mondo come grande orologio a quello di eh invece di eh al paradigma della complessità e della mh termodinamica eh perché questo ci consente voglio dire di eh di di poter parlare della della biosfera di questo di questo evento miracoloso che passatemi questa parola che si è eh prodotto eh nel nel nostro pianeta eh unico a possedere questa questo questa biosfera e poi tutto sommato questo eh non è un segreto che eh l'economia classica a partire da Smith, da Smith si sia basata, è basata, si è basata soprattutto sul paradigma della meccanica classica di Newton cioè la cosiddetta mano invisibile viene da questo da questo da questa metafora da questa legge di gravitazione di Newton dell'equilibrio tra da tra da masse eh appunto che si attraggono, si respingono, eccetera eccetera allora io mh farò alcune premesse ehm nel senso che mh non credo ci siano tra noi anzi sicuramente non ci sono tra noi dei negazionisti quindi eh voglio dire ehm dopo scontato eh le cose che stanno succedendo la crisi ecologica eh la drammatica crisi ecologica e in realtà mh così come eh l'obiettivo entro il 2050 di contenere la temperatura del pianeta entro certi limiti entro un grado e mezzo eh obiettivo che in qualche modo stiamo già fallendo ma eh che comunque anche se rispettato comporterebbe voglio dire eh comporterebbe dei guai e delle conseguenze pesanti cioè anche se rispettassimo se fosse rispettato questo obiettivo delle delle ehm così come non parlerò dei ritardi del dell'inerzia delle mh dell'impotenza dei nostri governanti amministratori sia a livello locale sia a livello internazionale per per rimediare diciamo i questa i danni che che provocarebbe questa crisi ecologica insomma io rimando un po' alle recenti tragedie delle delle marche a Ischia nel Pakistan eh e adesso ancora più recentemente in Turchia dove è è vero che c'è stato un terremoto e i terremoti sono imprevedibili ma è altrettanto vero che costruire su una faglia eh di quelle dimensioni nota per il suo carattere sismico edifici quattordici diciassette piani senza nessuna eh protezione sismica significa probabilmente ehm come dire aggravare eh le condizioni di 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 integrato ehm siamo tutti delusi immagino dalle dalle andamenti e dai risultati delle 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 conferenze delle parti delle copp l'ultima quella che si è tenuta a Sharmai Shek anche questa voglio dire praticamente un non si è concluso nulla eh e e e e si inizia e stiamo cominciando stiamo cominciando forse a riflettere sul fatto che queste conferenze delle parti eh in realtà non portano in nessuna parte nel senso che forse sarebbe il caso addirittura di abolirle eh tutto questo anche mh a causa mh è uscito un libro recentemente eh ecco di che si di Daniele Conversi che si chiama i cambiamenti climatici antropocene politica dove parla del ruolo anche che i nazionalismi eh la pervasività dei nazionalismi eh come dire che 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 stanno caratterizzando quest'epoca ehm concorre a impedire che che si prendano delle iniziative eh a livello eh internazionale Allora io confesso faccio una piccola premessa cioè confesso che quando è scoppiata la guerra la guerra in Ucraina ho pensato che forse ingenuamente come forse ingenuamente ha pensato qualcun altro di voi ho pensato ingenuamente che forse si sarebbe approfittato di questa drammatica circostanza per accelerare il processo di dipendenza dai fossili cioè visto che erano stati chiusi i rubinetti dei di gas dalla Russia eh forse eh sarebbe stato il caso appunto di 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 accelerare questo processo verso una riconversione ecologica diciamo così ma comunque di l'abbandono dei fossili. In realtà è successo il contrario nel senso che tutti gli stati si sono eh si sono hanno voglio dire eh cercato di rimediare a questo problema eh cercando altri 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 luovi di estrazione del del gas eccetera eh la stessa Giorgia Meloni ha concluso recentemente un accordo con la con la con l'Algeria e addirittura eh pensa di eh collocare un hub e un hub nel nel Mediterraneo in Italia per la distribuzione del gas eh in in altri paesi. Eh allora io devo dire subito che eh sono molto d'accordo con con l'impostazione che che Laura Marchetti diede al all'ecologia nella lezione del quattordici novembre scorso non so se vi ricordate che chi di voi ha assistito a questa bella lezione di Laura Marchetti eh lei diceva mh parlava di un approccio particolare diciamo il suo approccio era quello dell'ecologia profonda eh che mh se mi ricordo bene diceva a l'arrogante presunzione di cambiare il mondo eh e questo approccio di ecologia profonda lo rapponeva eh ad altre visioni ecologiche eh certamente eh che lei ma anch'io anche anche forse alcuni di voi ritengono meno efficaci e e soprattutto non non efficaci diciamo ecco io vorrei mh riassumere queste queste diverse visioni ecologiche in due in due tipi cioè da una parte eh il concetto di quella che quella che è basata sul concetto di idealizzazione del idealizzazione della natura cioè la natura buona la natura eh ci ci fornisce tutto ciò che ci serve eh eccetera eccetera eh e che da cui scaturisce un atteggiamento che è quello di ovviamente di tutela di protezione di salvaguardia e così via ora mh questo questo idea di 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 idealizzazione della natura è quanto mai sbagliata nel senso basterebbe reggere forse leopardi quando diceva che della natura non ci viene nulla di buono eh ma poi soprattutto eh per sfatare questa visione basterebbe ricordare che nel corso della dell'evoluzione del nostro pianeta della biosfera ci sono state ben cinque estinzioni di massa cioè mh ogni estinzione di massa ha comportato eh l'eliminazione del novanta per cento delle specie di animali viventi sul pianeta che si sono sono state completamente cancellate per dar vita poi a una nuova biodiversità quindi la natura è tutt'altro che buona e accogliente insomma eh una seconda visione mh è quella che ci viene secondo me dalla rivoluzione scientifica del seicento ehm e dalla cultura ebraico cristiana eh e cioè quella del dominio ehm io mi riferisco soprattutto a Galilei che nella sua enfasi della scienza nuova che aveva che aveva ehm addirittura che aveva provocato una rottura con la metafisica eh precedente Galilei arrivò a sostenere che eh appunto la la natura è scritta nei simboli della matematica e della geometria per cui eh basterebbe conoscere questo linguaggio per eh per poter per poterla eh conoscere e dominarla soprattutto e dopo di lui voglio dire altri scienziati mh di di quell'epoca hanno sostenuto idee ancora più forti Bacone per esempio o Cartesio eh addirittura con la scissione tra mente e corpo laplace eccetera eccetera ecco io sono d'accordo con invece con 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 l'approccio di di laurea di ecologia profonda o se vogliamo eh ecologia profonda o l'ecologia integrale di Papo Francesco anche questa voglio dire un approccio non compromissivo diciamo ma che guarda appunto ai vari aspetti ehm che dovrebbe riguardare l'ecologia non soltanto i cambiamenti climatici ma i modelli di vita, la solidarietà, le disuguaglianze, la povertà, le guerre eccetera eccetera quindi eh questa questa visione integrale di l'ecologia integrale di Papa Francesco eh secondo me è appunto è molto simile a quella di eh di Laura dell'ecologia profonda. Ecco io vorrei adesso a questo punto entrare nel merito del problema e parlare della complessità cioè ehm voglio dire fino alla metà del secolo scorso eh prevaleva una visione scientifica del mondo come un orologio, un meccanismo perfetto che si poteva comporre, riscomporre eh senza che una macchina banale in sostanza che c'era l'espressione di Von Foster e cioè una macchina banale che si poteva comporre, ricomporre a piacimento eh eh ecco ehm la il paradigma perché non è una teoria vera e propria della complessità, il paradigma della complessità invece eh introduce un concetto completamente diverso eh che cos'è la complessa che cos'è un sistema complesso ecco questo forse eh Laura l'altra volta ha tentato di definirlo in maniera forse un po' poetica nel senso del tessuto eh appunto del di questo tessuto fatto di fili eh che si intessono tra loro ma io vorrei dire che un sistema un sistema o un fenomeno complesso è un sistema eh in cui ehm il tutto è maggiore della somma delle parti e non solo ma eh le proprietà del sistema cioè del tutto non sono riconducibili alle proprietà delle singole parti che lo compongono. Quindi ehm innanzitutto eh bisogna dire che eh mentre per molto tempo abbiamo pensato che tutti i fenomeni eh potessero essere ehm interpretabili e descrivibili con la meccanica di Newton abbiamo poi scoperto che in realtà la maggior parte no la maggior parte la quasi totalità dei fenomeni eh è di natura complessa. Eh eh nel libro Jurassic Park c'è un dialogo molto interessante tra il matematico che va a vedere l'isola dei dinosauri e il guardiano dell'isola dei dinosauri eh sono poche righe ma molto interessanti perché eh il matematico dice al guardiano il vostro esperimento fallirà. Eh il guardiano eh dell'isola dei dinosauri dice eh a sua volta al matematico ma che ne sai non hai visto le cose e dice ma io te lo dico sulla base della mia esperienza e di conosci l'ora dei fenomeni complessi. Il il l'esperimento dell'isola dei dinosauri fallirà. Ecco questo ma eh era un po' un modo eh eh così e cricto insomma era un modo un po' divulgativo di spiegare eh i fenomeno della complessità. Allora ho detto che cos'è un sistema complesso e il termine complesso ovviamente non è opposto a quello di semplice semmai opposto a quello di complicato cioè per fare un esempio un aereo è un sistema complicato perché perché può essere montato e rismontato a piacimento complicato perché è fatto di tante parti ovviamente ma questa operazione di di smontaggio e rimontaggio può essere fatta senza che eh l'aereo perda eh in nessun modo le sue caratteristiche perché ogni parte contribuisce eh all'obiettivo dell'aereo che è quello di volare le ali, la coda, le eliche, i motori eccetera eccetera. Ecco la stessa cosa non si può dire dei sistemi complessi. Un cervello è un sistema complesso eh eh non c'è bisogno di dire che non può essere smontato e rismontato perché voglio dire eh perderebbe tutte le sue eh qualità. Eh pari si sostiene che complesso è un sistema nel quale si può parlare a lungo. In altre parole più cose possiamo dire sul comportamento di un sistema più ricco è il linguaggio da usare più variegata è la sua descrizione maggiore è la complessità del sistema. ora io sto parlando del della complessità perché eh a questo punto vorrei introdurre il concetto di biosfera ma ehm la biosfera ma ehm ci sono stati due scienziati eh che qualche anno fa decine di anni fa Lovelock e Margulis che mh pensavano che mh la biosfera o io d'orri in avanti parlerò di biosfera di pianeta in maniera eh sinonima diciamo che la biosfera eh è un sistema complesso lo dato in in suo addirittura di un suo metabolismo un super organismo che chiamarono eh e cui dietro anche un nome il nome di Gaia eh su questa teoria scientifica diciamo ehm è discutibile che la biosfera abbia un suo metabolismo come come eh gli organismi umani. Allora il concetto di biosfera fu introdotto la prima volta che se ne parlò e ad opera di un eh scienziato russo Vladimir Vernasky nel 1926 e che cos'è questa biosfera? È l'ambiente dove viviamo cioè mh per per identificarla anche quantitativamente è una una corona sferica eh che intersega la grossa terrestre e va da venti chilometri diciamo sopra la superficie terrestre a venti chilometri a una quindicina di chilometri eh quindi ehm diciamo ai fondali marini eh sotto la grossa terrestre e quindi c'ha uno spessore di una quarantina di chilometri diciamo così e per questo eh eh era stata chiamata con nome molto poetico, un'espressione molto poetica, la sottile buccia dell'arancia blu, appunto una buccia eh in realtà la la buccia dell'arancia è molto più grande relativamente a a le dimensioni dell'arancia di quanto lo sia la biosfera rispetto alla terra è l'ambiente dove viviamo eh ecco vi leggo soltanto un un due righe di Bernaschi nel 1926 quindi eh dice mentre la scienza cartesiana newtoniana aveva eliminato la vita dal mondo la visione scientifica di Bernaschi reintroduce il dinamismo della materia vivente nella teoria della terra e di tutta la filosofia naturale. Bernaschi si situa all'alba di questa rivoluzione scientifica contemporanea che segna la fine dell'epistemologia, dell'epistemologia della meccanica e nelizio dell'epistemologia della complessità. Allora io vorrei eh non non per fare una lezione accademica ma per i per i risvolti che questo comporta in termini eh ecologici e anche politici eh fare questo racconto di questa nascita di questa biosfera. Ehm come è nata la vita sul pianeta? Oh premetto eh questa biosfera è ehm è un luogo assolutamente singolare dove c'è la vita e un luogo così così singolare e così particolare che in nessun altro pianeta da noi conosciuto si è sviluppata qualcosa di simile. Quindi è un evento in sostanza direi quasi miracoloso ecco se mi passate l'espressione eh laica in senso laico un evento che eh non non necessariamente eh avrebbe potuto verificarsi eh qui anzi eh vi leggo una a proposito di questa di questa di questa di questo di questo diciamo eh evento assolutamente eh originale e particolare vi leggo una una frase di all'inizio del libro di Termo Pievani imperfezioni una storia naturale dice in principio fu l'imperfezione una disobbedienza all'ordine precostituito una ribellione senza testimoni nel cuore della più buia delle notti qualcosa si ruppe nella simmetria 13,82 miliardi di anni fa si alzò un soffio impercettibile e la grande matita dell'universo cadde rovinosamente da una parte e non dall'altra una piccolissima infinisimale infinitesimale anomalia divenne scaturigide di ogni cosa ecco quindi questo evento eh non era scontato eh ed è un evento eh assolutamente singolare allora eh su questa eh la biosfera era questa 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 corona sferica era inizialmente un luogo in cui non sarebbero potuto non sarebbero potuto non si sarebbero potuto sviluppare forme di vita perché l'atmosfera era piena di gas di CO2 di metano eccetera eccetera e che con con poco ossigeno e nessuna forma si sarebbe eh a un certo punto eh si nasce nascono delle forme eh delle dei gli organismi monocellulari eh che e nascono questi negli oceani eh perché negli oceani perché non essendosi ancora formata la fascia di ozono che protegge la nostra biosfera dalle 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 dai raggi ultravioletti che sono raggi che possono distruggere nel tempo qualsiasi cosa si forma appunto l'origine della vita nasce negli oceani eh come si sia originata la vita è ancora un mistero nel senso che come come sia stato possibile che da sostanze inorganiche si sia passati eh a sostanze organiche eh questo è ancora un mistero non non sappiamo anche questo se volete leggere eh qualche cosa che spiega un po' di più ma insomma non tanto c'è un libro di Erwin Schrödinger eh what's life che cos'è la vita eh appunto pubblicato molti anni fa che affronta questo problema successivamente eh succede un'altra cosa molto importante e cioè che alcune molecole d'acqua riconoscono l'energia solare dico riconoscono perché anche questo non era un esito scontato nel senso che sugli altri pianeti almeno quelli che conosciamo il sole batte scadda scadda la terra e poi rimbalza e quindi non succede niente non nasce niente non muore niente ecco alcune molecole di acqua sali minerali eh contenuti nella terra eccetera hanno riconosciuto questa energia solare e si è innescato quel quel fenomeno quel processo che voi che abbiamo studiato anche nelle scuole elementari e di fotosintesi eh cioè che significa fare cose con la luce eh per cui sono cominciate a nascere le piante in questa biosfera ora immaginate ehm immaginate come nel corso dei milioni di anni questo pianeta questo pianeta intendo biosfera ma non so intendo la stessa cosa questa questo pianeta si sia coperto almeno tutte le terre emerse si siano coperte di grandi foreste eh quindi e queste foreste hanno iniziato a sottrarre il carbonio in eccesso poi questa parola in eccesso eh eh è un è un ne faccio un uso un po' antropomorfico in eccesso non significa niente la biosfera andava bene anche così in eccesso rispetto alla possibilità della comparsa degli esseri viventi sul pianeta ecco queste queste foreste hanno nel corso di milioni di anni sottratto questo carbonio e mh e prodotto ossigeno fino a portare la composizione dell'attuale eh atmosfera ai livelli attuali che sono quello di eh 78% di azoto e 21% di ossigeno ecco e qui c'è una prima riflessione importante da fare e cioè dove è finito dove è finito questo carbonio questa CO2 sottratta eh all'atmosfera ecco eh è finita in sostanza si trattava di un rifiuto un 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 elemento voglio dire dannoso eh rispetto a alla composizione attuale dell'atmosfera e quindi andava nascosto eh andava seppellito sotto la grossa terrestre e questi sono i fossili quindi in sostanza possiamo dire possiamo fare un racconto di questo genere è come se quando noi quando noi come dire utilizziamo bruciamo i fossili eh reinvertiamo questo processo e reinmettiamo eh rimettiamo nel pianeta la nitrida carbonica sottratta e quindi voglio dire facciamo un'operazione eh di eh di inversione eh di di questo ciclo in sostanza è come se eh a un certo punto ci fosse una uno spazzino che nel corso di tanti anni raccoglie l'immondizia nelle strade di tutte le città del mondo la mette nei cassonetti e voglio dire e poi dopo di lui un altro spazzino un po' più capriccioso rovescia tutti questi cassonetti eh sulla strada e quindi eh 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 riproducendo le condizioni eh antecedenti. Ecco questo ci dovrebbe spiegare perché non dobbiamo condivizzare i fossili ma eh dovrebbe essere forse un insegnamento ehm a partire dalle scuole elementari cioè in sostanza i fossili eh erano sono voglio dire i rifiuti nella della biosfera e sono stati seppelliti appunto per non provocare danni e quindi voi capite che eh l'utilizzo dei fossili eh voglio dire eh eh altera sostanzialmente il clima producendo quello che eh il riscaldamento del 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 pianeta attraverso l'effetto osserva insomma perché come dire inspessisce lo strato di CO2 nell'atmosfera. Ecco a questo punto per spiegare un po' ancora eh un altro fatto incredibile che è successo su questo pianeta eh devo però introdurre il concetto di entropia eh non è un concetto l'entropia è un concetto semplice eh e anche è anche complesso vuol dire dipende un po' per quanto eh da come lo si affronta da come se ne parla eh è anche un concetto che ha fatto riflettere molti eh molti non scienziati per esempio Freud o o più o ultimamente anche scalambro quel filosofo siciliano appunto che ha scritto un bel libro a proposito che era la morte del sole eh l'entropia è una misura misura lo stato più probabile di un sistema ovvero il grado di ordine disordine ehm intropia eh introduce anche il concetto di irreversibilità cioè si va sempre da uno stato di ordine verso uno stato di disordine allora questo non ci bisogna rispiegarlo nel senso che eh fa parte dell'osservazione quotidiana di ognuno di noi se uno eh al mattino mette mette la casa in ordine e poi fa le sue cose alla sera sicuramente la casa sarà eh meno ordinata di quanto lo era all'inizio ovvero per riportarla alle stesse condizioni di ordine occorre fare un lavoro cioè somministrare energie eh che cosa significa eh l'entropia diminuisce sempre e aumenta sempre nei in tutti i sistemi salvo i casi di sistemi isolati dove rimane costante ma ma eh spontaneamente l'entropia aumenta eh quindi aumenta il disordine l'entropia ci dice anche un'altra cosa che ehm ad ogni trasformazione di energia l'energia libera che rimane eh voglio dire eh diminuisce cioè ogni trasformazione energetica comporta una degradazione dell'energia per cui voglio dire eh l'energia eh finita ehm l'energia degradata non può essere riutilizzata ulteriormente per ulteriori trasformazioni ecco il calore per esempio è una forma di energia il calore a bassa temperatura è una forma di energia degradata che non può essere riutilizzata per riottenere un altro tipo di energia il calore ad alta temperatura invece può muovere le turbine e trasformarsi in energia meccanica o energia cinetica eccetera eccetera allora hm perché dico questo perché su questo pianeta è successo un fatto assolutamente singolare eh anzi alcuni alcuni scienziati io mi ricordo per esempio Enzo Tiezzi eh diceva che la bellezza su questo pianeta addirittura eh la bellezza dei fiori la bellezza di una rosa è dovuta a questo fenomeno singolare per cui l'entropia eh nella nella biosfera diminuisce ora io ho detto l'entropia non può mai diminuire ma adesso vi spiegherò questo apparente contraddizione cioè il pianeta riceve energia energia ad alta temperatura energia nobile eh dal sole dopodiché voglio dire trasforma questa energia la degrada e quindi all'interno del pianeta l'interno della biosfera l'entropia diminuisce e poi eh come dire c'è una quota di energia che viene espulsa verso lo spazio ed è eh a bassa temperatura quindi entropia aumenta allora se consideriamo il sistema di riferimento soltanto la nostra biosfera abbiamo che l'entropia diminuisce cioè ovvero si passa da uno stato di disordine a uno stato di ordine questo è il concetto vuol dire che ci interessa cioè eh quindi la bellezza uno potrebbe anche metterla in questi termini la bellezza la biodiversità eccetera che si che si produce nella biosfera è appunto l'effetto di questa diminuzione di entropia il secondo principio non è contraddetto perché se allarghiamo il sistema di riferimento al sole eh biosfera e spazio complessivamente facciamo un bilancio entropico complessivamente l'entropia aumenta ehm ora dico questo perché eh questa questo principio dell'entropia è un principio che come dire mette in assolutamente in in discussione e tutti per esempio tutte le il sistema economico e tutto il il diciamo la la costruzione dell'economia classica nel senso che il passato è morto qualche anno fa c'era uno scienziato un economista eh rumeno che si chiamava Giorgesco Regan il quale scrisse due due libri interessanti fondò una scienza che si chiamava bioeconomia economia del vivente e i due libri che scrisse sono Analytical Economics nel 1966 dentro quello endete economic process nel 1971 eh Giorgesco Regan sosteneva l'economia è basata sul paradigma della meccanica di Newton la legge domanda offerta che è un paradigma superato eh mentre essa dovrebbe fondarsi sul paradigma del sul paradigma della termodinamica e delle scienze della vita biologia ed etologia eh Giorgesco Regan fu invitato anche a partecipare al dibattito che si sviluppò dopo l'obbligazione dopo la pubblicazione del del rapporto del Massachusetts Institute of Technology del 1972 commissionato dal Club di Roma ehm rapporto che probabilmente voi conoscerete ma i le cui previsioni dicevano che il il pianeta sarebbe collassato più o meno negli anni duemila e trenta se non se non sbaglio per effetto della finitezza delle risorse e per l'effetto dell'inquinamento ehm Giorgesco Regan partecipò a questa discussione a proposito il rapporto era usci poi con 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 sotto forma di libro con il con il titolo eh del limits to grow i limiti della crescita in realtà i in Italia fu tradotto i limiti dello sviluppo mh un errore madornale se se pensate che i due termini sviluppo e crescita sia in italiano sia in inglese sono sono hanno due 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 nomi diversi mh io non credo sia stato un errore ma proprio semplicemente questa piccola parentesi non credo sia stato un errore semplicemente perché crescita e sviluppo in quegli anni siamo le nei famosi eh trenta gloriosi in quegli anni probabilmente crescita e sviluppo era la stessa cosa cioè tutto cresceva tutto si sviluppava voglio dire e chiunque mettesse metteva in in crisi questo questo questa impetuosa crescita questo impetuoso sviluppo eh veniva appunto additato come eh un nemico del 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 progresso quindi eh e questo smascheramento dei miti economici si fondava su una simmetria secondo Giorgesco Reagan tra lo stock finito di risorse e il flusso di energia proveniente dal sole poco concentrato in intensità ma enorme rispetto a quello di origine terrestre ecco per fare un esempio forse molto caro a Piero che si è occupato di eh attività di agricoltura industriale Giorgesco Reagan diceva eh che avendo l'uomo sostituito le risorse di origine solare più abbondanti e cioè il lavoro umano animale e letame con risorse di origine terrestre macchinari fertilizzanti eccetera e considerato il rendimento fortemente decrescente dei fattori produttivi in agricoltura l'agro l'agricoltura industriale era una sperperatrice di energia terrestre e con questo era la sostanza del del quindi l'atteggiamento di Giorgesco Reagan era radicale nel senso che diceva eh inutile parlare di economia è inutile parlare di crescita infinita è inutile parlare di sviluppo eccetera eccetera l'unica legge che regola la vita eh sul pianeta è eh la legge dell'entropia che è una legge inesorabile per cui voglio dire non si sfugge a questa legge nel senso che noi possiamo utilizzare soltanto l'energia solare ogni altro utilizzo di 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 altra energia non fa che accelerare questo processo di eh di di catastrofe nel senso di diminuzione di energia libera ecco io mi avvio a a finire farò semplicemente un accenno alla tecnica in qualche modo mi spetta visto che sono un ingegnere anche anche se non ho mai fatto la professione di ingegnere in realtà eh quindi eh diciamo che la tecnologia per molto tempo è stata una una un'applicazione un'applicazione della scienza cioè la tecnologia non procedeva autonomamente ma ehm come dire eh veniva al seguito di scoperti scientifici eh per esempio eh non si sarebbe mai potuto concepire il motore a combustione interna delle attuali macchine eh se non ci fosse stato la scoperta del secondo principio della termodinamica e da ormai da tanto tempo la tecnologia non ha più bisogno della scienza procede autonomamente eh internet o i telefonini non dietro dietro internet dietro i telefonini non c'è nessuna eh teoria scientifica c'è solo un accrescimento eh quantitativo e velocissimo della tecnologia quindi tecnologia e capitalismo in sostanza perseguono lo stesso scopo quello di accrescere se stessi di accrescere eh all'infinito se stessi e e questo voglio dire forse ci riguarda un po' perché eh dovremmo come dire nel processo di revisione marxista voglio dire questo questo invece di esaltazione della tecnica del progresso eh questo questo carattere positivista diciamo dovrebbe essere un po' forse eh eh analizzato più analizzato per vedere come eh la tecnica eh appunto facevo prima l'esempio dell'intelligenza artificiale sta diventando eh pericolosa ehm un ultimo aspetto eh sì si torna a parlare della scienza neutrale cioè alcuni dicono la scienza è neutra dipende dall'uso che se ne fa e i sostenitori di questa eh di questa teoria di questa tesi eh usano spesso l'esempio del martello dicono con un martello si possono attaccare dei chiodi sulla parete per mettere dei quadri oppure si può eh fracassare la testa di un nemico e quindi voglio dire dipende tutto dall'uso che se ne fa ora questa cosa è particolarmente per me eh dolorosa nel senso che eh ho sempre detto che uno eh dei miei maestri è stato Marcello Scini il quale dal 1972 cioè dall'epoca di pubblicazione di quel libretto là per l'architetto e via via in tutti i gli anni fino fino alla sua morte è venuta dieci anni fa non ha fatto altro che confutare questa teoria della tecnica neutra dicendo che la tecnica eh è filia dei voglio dire dei rapporti sociali dei rapporti di produzione eh eccetera eccetera e quindi voglio dire non è assuramente neutra eh ma eh questo ce lo insegnò anche di cui quest'anno mi pare eh si si celebrano i cinquantesimo in cinquantesimo della pubblicazione del libro nel suo di quel grande libro che che è stato Silent Spring, Primavera Silenziosa dove eh la Carson fece, denunciò per prima eh 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 i come dire i danni provocati dall'uso dei pesticidi conoscete forse la la storia della Carson fu 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 voglio dire osteggiata eh fu boicottata eh eh diffamata eh e soltanto credo nel 1900 eh fu fu John Kennedy che la riabilitò eh dicendo che la Carson aveva detto delle cose eh eh vere e lei in particolare fece la lotta contro il DTT ehm voi qui siamo una generazione di persone non non giovanissime per cui eh ci ricordiamo tutti gli effetti di questo eh di questo insetticida DTT che eh eh appariva eh al momento della della sua della sua del suo uso come una cosa liberatoria perché ci liberava dalle dalle mosche, dai parassidi eccetera eccetera e poi invece si è dimostrato eh eh essere anche eh un potente cancerogeno. Io mh finisco dicendo eh 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 voglio porre alla vostra attenzione una particolare tecnologia che secondo me eh eh illumina proprio questo questa condizione di 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 assurdità nella nella della tecnica eh questa tecnologia si chiama CCS forse molti di voi la conoscono e significa cattura e sepoltura e seppellimento scusate cattura e seppellimento dell'anitrida carbonica eh ed è una cosa eh che dovrebbe far ridere nel senso che eh 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 come dire alcuni alcuni produttori di CO2 non volendo rinunciare alla loro produzione ma eh essendo costretti dai fenomeni eh di alterazione climatica eh costretti a a prendere dei provvedimenti hanno pensato bene di catturare di continuare a produrre come produrre catturare la CO2 che esce dai cammini delle fabbriche e seppellirla sotto la crosta terrestre. Normalmente non dappertutto ma laddove soprattutto si era si era si era trivellato per estrarre i combustibili fossili e quindi c'è la presenza di grandi cavità sotterranee per esempio a Ravenna e quindi seppellire questa 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 CO2 sotto la crosta terrestre. Ora questa è una cosa eh è una cosa incredibile insomma nel senso che a parte che è esattamente quello che ha fatto la natura nel corso dei milioni di anni ma non con queste con queste conseguenze disastrose ma poi catturare CO2 e seppellirla e seppellirla significa consumare energia non c'è verso insomma cioè si continuano si continua insomma io eh Batson usava una frase una metafora molto 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 interessante molto indicativa diceva il ecologico non può essere beffato e non esistono scorciatoie in ecologia cioè ora questa questa tecnica somiglia un po' a quei a quelle invenzioni prima del del 1750 che erano basate sull'idea che ci fosse il moto perpetuo no eh fino a che nel 1775 la l'accademia francese poi non accettò più ehm brevetti che ehm si basavano su invenzioni eh che riguardavano il moto perpetuo il moto perpetuo non è possibile semplicemente perché esiste il secondo principio della termodinamica ecco questo eh c'è il barone di muciansene che si prende i capelli eh e si tira su per attraversare la palude non è è una cosa che non ha senso ma i nostri governanti voglio dire non hanno ancora capito questa lezione nel senso che ancora credono che in qualche modo esista un modo perpetuo perché si produce il CO2 ma poi si seppellisce sotto la grossa terrestre e allora voglio dire il problema è finito voglio dire la soluzione è stata trovata possiamo continuare a produrre continuare a crescere continuare a catturare CO2 a nasconderle eccetera eccetera ecco questo mi pare un un segnale dei tempi insomma eh c'è questo atteggiamento eh così così negativo va bene io mi ringrazio ho finito qui ehm se qualcuno vuole poi qualche indicazione l'indicazione bibliografica ehm l'ho mandata a Piero ma ce ne ho altre ehm arrivederci grazie Enzo eh abbiamo già alcuni che hanno chiesto di intervenire lasciamo un po' di spazio anche per voi per poter porre le questioni e domande e e poi magari raccoglierne due o tre e per dare modo Enzo di di replicare eh ho un iPhone che non so a chi corrisponda che non so a chi corrisponda che alzavo la mano e poi Marina a fondo non c'è quindi Marina sì allora eh grazie intanto per questa relazione mi ha ehm diciamo generato molte suscitato molti molte riflessioni molti stimoli e adesso però per semplificare per essere contenuta nei tempi faccio riferimento soltanto a un paio di punti che ho particolarmente a cuore il primo riguarda eh Galileo Galilei perché per me è è stato una tale pietra miliare nella storia anche della nostra cultura che mi è veramente difficile sentirlo un po' ridurre mh anche se capisco che eh ovviamente eh nei limiti di una presentazione di questo tipo non si può fare altrimenti a eh come colui che in qualche modo ha fatto ha introdotto l'idea che eh la natura eh possa essere dominata dall'uomo io penso invece che eh a introdurre a diffondere ehm negli anni nei secoli questa idea di dominazione dell'uomo sulla natura sia stata piuttosto la religione e la e la chiesa e la religione eh cristiana ha sempre messo al centro del creato eh l'uomo e tutto il creato in qualche modo era a sua eh disposizione l'idea che eh la natura vegetale la natura animale fosse stata creata per soddisfare i bisogni dell'uomo è un'idea eh che la che la religione piuttosto che la scienza ha eh introdotto e sostenuto e difeso penso fino a pochi anni fa forse adesso è cambiata un po' la sensibilità riconosco che Papa Francesco abbia diciamo cambiato un po' il registro l'altra eh fonte diciamo di diffusione di questa idea è stata soprattutto la il diciamo il sistema economico derivante la l'industrializzazione quindi il capitalismo l'industrializzazione che ehm in una diciamo in un'idea così ottimistica dell'avanzata del del progresso ehm diceva che appunto l'uomo può dominare il il pianeta l'universo la natura eh per quanto riguarda invece Galileo io credo che lui abbia ehm contribuito a ehm non considerare eh i fenomeni naturali come qualcosa di così eh incomprensibile ehm estemporaneo a cui l'umanità era sottoposta e soggetta io penso che alla sua al suo tempo eh semplici fenomeni come per esempio eh tempeste temporali fenomeni distruttivi naturali venissero interpretati come qualcosa di veramente misterioso e soprattutto eh di punitivo nei confronti dell'umanità come una specie di volontà divina che si un'ira divina che si abbattesse sulla sull'umanità e invece eh il fatto di dire eh e di affermare l'idea che eh la la natura in qualche modo un libro che si può cominciare a leggere conoscendo il suo alfabeto e individuandone quindi eh i legami le leggi sia un'idea eh fonda importante che è nata appunto con questo approccio scientifico al ai fenomeni naturali ehm poi l'altro aspetto anche il meccanicismo sì il meccanicismo è riduttivo ovviamente è quello che di un sistema complesso estrae alcuni elementi e lo modellizza per poter eh per poterlo studiare sì eh questo sicuramente è un limite ma è il limite che ha permesso alla scienza dei grandi avanzamenti modellizzare eh le i sistemi in maniera semplificata ridurli ad alcuni elementi diciamo di tipo fondamentale comunque è quello che ci ha permesso di eh conquistare tante di quelle ehm di quei comfort che noi consideriamo praticamente irrinunciabili oggi e che ci ha permesso di capire soprattutto come funzionano i sistemi altrimenti saremmo rimasti eh diciamo di fronte a questi sistemi complessi senza avere alcuna possibilità di cominciare a scardinarli e anche in maniera limitata di cominciare a capirli quindi mh con tutti i limiti che ha la semplificazione l'approccio meccanicistico che eh si rifà alla diciamo a una modellazione a una modellistica semplificata dei fenomeni naturali ben vengano e sono ben e hanno ben contribuito a capire comunque i meccanismi fondamentali di molti aspetti eh delle diciamo dei fenomeni che ci circondano e della tecnica che poi se ne è eh si è sviluppata in conseguenza di questo eh che altro ci tenevo a dire ah per quanto riguarda il fenomeno così diciamo singolare così improbabile che è la vita eh è vero sì per noi può può sembrare così improbabile e singolare però quasi miracoloso però ricordiamoci che noi appunto dell'universo che ci circonda conosciamo ben poco e che eh tutto quello che abbiamo detto rispetto a questa singolarità a questa eccezionalità è riferito a quel poco di sistema ehm eh cosmico che conosciamo e anche in quello comunque non è proprio così eh perché per esempio eh nel duemiladiciotto la NASA ha dichiarato che eh su Marte sarebbero presenti molecole organiche e che eh con il i cicli del metano presenti nell'atmosfera di Marte Marina Marina Sì? Prego prego Marina vai finisci Ah sono mi sto dilungando troppo? Allora finisco niente che su Marte probabilmente la vita c'è stata o forse ci sarà di nuovo quindi insomma non è proprio così singolarissimo in assoluto questo fenomeno vita no? Che noi l'ultima cosa brevemente eh io apprezzo moltissimo il lavoro di Marcello Cini come quello che ha fatto la Carson ma penso che anche loro in quella in quei eh lavori volessero volessero denunciare soprattutto l'utilizzo che si fa eh nel nostro sistema economico nel sistema eh che sfrutta conoscenza e ehm risorse naturali per generare profitti e eh disastri eh ma non la conoscenza e la tecnica che da questa conoscenza deriva e chiudo grazie scusate anzi se mi sono dilungata troppo. Grazie grazie Marina. Sì sono sono iPhone eh Mario Sommella. Ciao Mario. Eccoci qua. Allora volendo riprendere il passaggio capitalismo e tecnologia. Ehm vorrei diciamo controbattere un attimo questo paradigma che accosta la tecnologia e le tecnologie al capitalismo ed esclusivamente solo al capitalismo con un con un paradigma di Teodoro Adorno che eh a metà degli anni sessanta diceva con chiarezza eh che la sinistra o quella sinistra che si pone al di sotto della qualità della tecnica sarà destinata o a scomparire o a essere ininfluente. Ecco forse probabilmente ci troviamo in questa fase non credo nella sconfitta totale ma che siamo diventati ininfluenti a sinistra soprattutto come forza propulsiva e oppositrice e questo mi sembra abbastanza chiaro. Però riprendiamo il discorso sulla tecnologia per quale motivo? Io non credo assolutamente che il capitalismo e la tecnologia siano i binari dello stesso treno per il che viaggiano verso il progresso o verso l'infinito eh progresso tecnologico legato esclusivamente al capitalismo. Io invece credo che la sinistra avrebbe dovuto forse abbandonare un po' quella sorta di nudismo moderno e cercare di comprendere assolutamente come le tecnologie soprattutto le ultime tecnologie che parlo eh di quelle mediatiche internet e di comunicazione moderna e che avrebbero dovuto invece essere sfruttate. Ecco in questo inviterei eh la lettura io poi ve lo posso anche girare un articolo di Shushana Zuboff su Internazionale e anche la lettura di un bel libro di Dion Chulan sulla psicopolitica. Dico questo per quale motivo? Io non ho la convenzione netta che la eh tecnologia sia lo strumento del capitalismo. Io credo che noi non abbiamo compreso soprattutto a sinistra come utilizzarla al meglio e non abbiamo capito come i mezzi di comunicazione si siano trasformati attraverso internet. Allora la domanda che pongo al relatore è proprio questa. Cioè eh il paradigma di adorno è attuale e credo proprio di sì ma eh come in realtà non confuta. Eh? Pronto? Prego? Prego? Prego, prego, continuo. Ah, pensavo se qualcuno volesse. Quindi praticamente sul capitalismo e tecnologie invece io credo che comunque non sia un paradigma esatto e quindi di rivederlo ed eventualmente di ragionarci su anche alla la luce di tanta eh letteratura che compro dal contrario. Grazie. Grazie a te. Ehm prima di dare la replica a Enzo c'è Piero per l'ultima richiesta di parola. Piero bevi l'acqua. Eh io volevo riprendere il fatto di Giorgesco Regan dell'agricoltura industriale definita per per economico. e la è curioso ma è curioso ma in mila anni questa è l'età che insegnano all'agricoltura del cibo di alimentare ha consentito di arrivare almeno fino alla fine del cibo di alimentare ha consentito e naturalmente la terra si lavorava con il lavoro umano gli animali e gli animali e vivono. Chiaro perdonami eh si sente molto male se potessi ripristinare come stavi bene e si sentiva io avevo la cuffia adesso adesso si sente molto meglio grazie. Ho un nuovo computer che fa i capricci e avete sentito qualcosa? Sì ma eh cioè ho detto che per per diecimila anni eh l'agricoltura ha nutrito eh l'umanità e l'ha fatta arrivare ad alcuni miliardi di individui sino alla fine dell'ottocento quando poi eh è incominciato l'uso della concimazione chimica esclusivamente con l'energia solare cioè con il letame animale per fertilizzare la terra con l'energia del lavoro umano e così via. Allora la eh a partire diciamo soprattutto dai primi del novecento comincia l'utilizzo dell'energia fossile la i concimi chimici non sono altro che fossili il fosforo eh il fosforo il potassio in parte è stato a lungo l'azoto l'azoto ora viene eh prodotto eh consumando però petrolio a livello industriale. Pensate ehm per produrre i fosfati si distruggono eh chilometri di territori di suolo che sono formati di fosfate. Ci sono due isole dell'oceano Pacifico che sono state abbandonate Ocean e Nairau sono state abbandonate dagli abitanti dopo che gli inglesi per un secolo hanno sfruttato i fosfati. Ehm lo stesso accade in eh in Marocco una mia allieva ha studiato il caso del Marocco. Vedete l'emigrazione eh dei marocchini in Italia e proviene quasi esclusivamente da un paio di province che sono siti minerali sono state siti minerali inaugurati dai francesi negli anni venti e lo sfruttamento delle territori è diventato talmente devastante che eh eh appunto i gli abitanti sono sono dovuti emigrare. Quando quindi noi eh parliamo di di agricoltura soprattutto gli agronomi e gli economisti agrari dimenticano assolutamente quello che c'è è dietro i concimi minerali. Cioè questa devastazione di numerosissimi siti delle del pianeta che vengono distrutti con naturalmente inquinamento di acque e solventi eccetera eccetera quello quello che non succede. Allora quando e finisco allorché eh qualcuno eh sono in molti anche scienziati anche studiosi eh propongono eh come alternativa alla modello diciamo come possibilità di di sfidare le avversità climatiche le avversità dei parassiti l'agricoltura l'agricoltura degli OGM trascurrono assolutamente questo dato di partenza cioè che la il loro modello di agricoltura continua a saccheggiare il pianeta eh comportandosi come l'industria cioè saccheggiando eh l'energia fossile depositata eh nel suolo o nel sottosuolo. Ecco lo ricordo per mostrare come la prospettiva storica indica una possibilità e un'alternativa di economia perché se eh per diecimila anni eh non c'è stato bisogno di eh saccheggiare i fossili oggi è è possibile a maggior ragione con eh le conoscenze che possediamo. Grazie. Grazie Piero. E ho ancora una persona Pino. Poi darei la parola Enzo per poter solo brevemente su un aspetto. Io non credo che Enzo abbia sostenuto che la meccanica classica ehm non sia stato un un fattore di progresso nello sviluppo dell'umanità e che la meccanica classica non riesce più a tener conto di alcuni fenomeni frattempo intervenuti qui invece la termodinamica o la meccanica quantistica danno ragione che ci insegnano un'altra cosa e ci insegnano cioè rispetto all'uomo prometeico e che al quale corrisponde la possibilità di dare uno o più risposta a ogni problema introduce una una nuova io lo dico in questo in questo modo una nuova visione della diciamo della vita sul pianeta e che quella cioè che ad alcuni problemi noi non abbiamo alcuna soluzione da offrire. È una condizione dell'esistenza umana che noi dobbiamo cominciare ad accettare e che la meccanica classica in qualche modo non includeva mentre le speculazioni filosofiche, epistemologiche, fisiche e moderne invece ci inducono a pensare. Grazie Pino. Enzo a te l'ultima parola. questo argomento mi vengo a questo argomento sollevato da Marina sul riduzionismo ma ha già risposto in qualche modo Pino c'è un riduzionismo scientifico che forse ci ha anche aiutato a trovare delle soluzioni a fare in modo che la scienza dell'occidente sia sia stato un modello di scienza universale insomma questo lo dico con molti dubbi ma c'è anche un riduzionismo ontologico cioè come dire il fatto che il dato fenomeno deve corrispondere al modello che ho nella testa nel senso e questo mi porta voglio dire ad errori clamorosi tra cui il colonialismo tra cui voglio dire il razzismo eccetera perché nella mia testa il mio modello è voglio dire un modello semplificato e faccio corrispondere la realtà al mio modello ecco questo è pericoloso nel senso che poi nessuno vuole togliere i meriti a Galilei io meno che mai voglio dire nel senso che sono cresciuto in una facoltà scientifica quindi tecnica anzi non scientifica però voglio dire questa sua rottura col mondo della metafisica eccetera però voglio dire è un tantino esagerato se mi consentite un po' la battuta del montantino esagerato gli scienziati filosofi del seicento su questa interpretazione della natura insomma ho già detto Bacone diceva che la natura è come una prostituta bisogna assoggettarla al nostro volere eccetera 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 quindi voglio dire ci sono state delle affermazioni su lo stesso lo stesso descarte lo stesso cartesio voglio dire secondo me il precursore della modernità voglio dire ha introdotto un errore diciamo così ecco un errore mi riferisco al libro di Damasio uscito una ventina di anni fa trentina anni fa l'errore di cartesio insomma ha introdotto questo errore della della separazione tra corpo e mente che ha la base poi certo è alla base nello sviluppo dei calcolatori moderni nel senso c'è un hardware c'è un software la metafora è sempre la stessa però voglio dire questo qui ci ha portato per tanti anni a ritenere che corpo e mente fossero due entità separate tra loro e invece voglio dire poi abbiamo sappiamo ormai che l'intelligenza fa parte di proprio di questo rapporto e non vabbè comunque non so se non ci sono altre altre domande altri temi ringrazio Enzo Scandura ricordo che questa lezione come le altre precedenti potete trovarle sul sito di transformitalia e lascio la parola adesso a Piero che ci dice anche quali saranno le prossime tappe di questo percorso sì eccomi allora in poche parole intanto per ricordare la prossima lezione di Settis che si intitola lo strano destino dell'articolo 9 della Costituzione dalla Costituente alla modifica del 2022 e si terrà come al solito giovedì 16 febbraio alle ore 18 l'articolo a cui si riferisce di Settis è quello che riguarda il fatto che la Repubblica promuove la cultura e la ricerca scientifica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico io però approfitto per fare dei ringraziamenti ringrazio Pino Greco un ex dirigente scolastico che mi ha fornito molti preziosi contatti per la verità per questo dovrei ringraziare molte persone che che mi stanno anche ascoltando ma ringrazio Pino Greco perché mi ha messo in contatto soprattutto con insegnanti con il mondo degli insegnanti che è un contatto a cui io tengo in maniera particolare e ringrazio anche Roberta Renza Bertuzzi e Angelo Schebba che sono dirigenti di Gilda i quali non solo mi hanno fornito contatti con tanti insegnanti ma trasmettono le registrazioni delle nostre lezioni nel loro canale televisivo del sindacato quindi diciamo ci danno un contributo di primordine io cito questi casi per continuare a esortare gli insegnanti a servirsi di questa registrazione molte di questi insegnanti volenterosi possono nelle ultime classi della scuola media superiore far ascoltare con debita preparazione e far eseguire le lezioni ai ragazzi pensate a un tema come l'autonomia differenziata che è nostra ordinariamente trattata da Gianfranco Viesti in una delle lezioni registrate l'autonomia differenziata lo ricordo è un progetto già passato nel consiglio dei ministri che distruggerà l'unità del paese che farà le scuole regionali cioè romperà l'unità formativa e culturale e culturale degli italiani noi rischiamo di perdere il bene più prezioso conquistato politico conquistato negli ultimi 160 anni l'unità del nostro paese non è possibile che i ragazzi di oggi non sappiano nulla di quello di come vivranno tra dieci anni di che paese troveranno di che in quale ambiente invivibile saranno costretti ad abitare allora io credo che gli insegnanti oggi non solo debbono fare onestamente quello che fanno cioè il loro mestiere ma anche compiere uno sforzo aggiuntivo di impegno civile devono devono coinvolgere di più i ragazzi nella storia del nostro tempo e queste lezioni sono uno strumento importante per farlo grazie a roberto per il suo lavoro a tutti voi grazie naturalmente ad enzo per la serata arrivederci ciao a tutti grazie a ciao ciao a tutti ciao ciao